E' stato presentato oggi pomeriggio all'Aragona il nuovo allenatore della Vastese Giovanni Cornacchini che ha preso il posto dell'esonerato Alessandro Lucarelli. Per la Vastese si tratta del terzo allenatore stagionale. Queste le parole del neomister Biancorosso. Sono venuto qua con un grande entusiasmo, con voglia di riuscire a fare bene, cercare di aiutare i ragazzi a uscire da una situazione di classifica che non è drammatica ma è una situazione di classifica normale. Quindi dobbiamo essere bravi ad affrontare queste partite come se fossero delle finali. Iniziamo già da domenica contro il Termoli che, ripeto, ha pochi punti ma è sicuramente una squadra organizzata e ben allenata. Ho trovato una squadra che ha voglia di lavorare, che cerca di seguirmi nelle idee che ho io di calcio e quindi da questo punto di vista qua sono contento anche se ho fatto solo un allenamento e mezzo. Tanto ho cercato di capire che tipo di giocatori avevo a disposizione, che ho a disposizione. Ho visto qualche filmato del Termoli, mi sembra che sia una squadra organizzata, quindi dovremo essere bravi, stare attenti a tantissime cose ma essere vogliosi di ottenere risultati importanti. Intanto la dirigenza della Vastese ha annunciato le proprie dimissioni dopo la decisione di far disputare la partita di domenica con il Termoli a porte chiuse. Una decisione presa proprio con la polinata dietro alle spalle perché oggi venerdì 12 e mezza è arrivata questa PEC che ci ha distrutto in quanto dopo due anni di Covid, un anno di lavori, il campo chiuso. Questa notizia veramente mi ha distrutto e purtroppo sono stato costretto a dare le mie dimissioni, dispiace per tutta la situazione, per i tifosi, per la città. Mi dispiace però ho fatto la mia scelta dolorosa nonostante i risultati che non erano a nostra parte, però questo non c'entra niente. Lunedì consegnerò il titolo al sindaco e da lunedì ci penserà lui con tutta l'amministrazione.